Daniele Bossari e Filippa Lagerbach sono volati a New York insieme alla figlia a 19 anni Stella, un viaggio di famiglia che sognavano da tempo. Emozionatissimi e felici hanno passeggiato tra le strade di Greenwich Village e sono seliti sui grattacieli più belli. Sui loro profili si mostrano sorridenti a Times Square e nei ristoranti tipici new yorkesi. Dopo aver combattuto contro una neoplasia alla gola, il conduttore e la moglie si godono finalmente la felicità. Grazie per la visione!